L'operazione è denominata Provvidenza 2 ed è l'ennesimo colpo assestato dalle forze dell'ordine ad una delle più potenti famiglie d'indrangheta, i piromalli. I carabinieri del Ross all'Alba hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di 12 presunti affiliati alla cosca operante a Gioia Tauro, ma con ramificazioni in tutta Italia. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, truffa ed altri reati. L'intervento, coordinato dalla locale procura distrettuale antimafia, segue a meno di un mese il fermo di 33 persone appartenenti al sodalizio di Gioia Tauro, che ha visto anche il sequestro del consorzio Copam di Varapodio, costituito da oltre 40 aziende e cooperative agricole operanti nella piana di Gioia Tauro, nella Sicilia orientale e nel Basso Lazio. Le indagini hanno documentato l'infiltrazione dei Piromalli, che avrebbero infettato il locale tessuto economico, con particolare riferimento al settore agroalimentare, grazie alla complicità di imprenditori collusi. Manette ai polsi anche per gli anziani boss del clan Giuseppe ed Antonio Piromalli, da molti anni al vertice dell'omonima cosca dell'Andrangheta.